Alla vigilia della trasferta di Melfi, la formazione del Catania è ancora piena di dubbi in tutti i ruoli del campo. Alcuni dei possibili indisponibili hanno recuperato e sono stati regolarmente convocati da Rigoli, che ha chiamato subito anche il nuovo acquisto Andrea Mazzarani insieme ad altri 21 giocatori. Per l'ex trequartista del Crotone non vi è ancora alcuna certezza sul suo impiego dal primo minuto, ma c'è la sensazione che Rigoli voglia concedergli una bella fetta di partita. Al di là dei minuti che verranno giocati da Mazzarani c'è anche l'idea che il tecnico rossazzurro stia studiando per lui una posizione diversa a quella per lui abituale, che potrebbe essere anche quella in linea mediana, soprattutto se i viaggianti non dovesse riuscire a scendere in campo per via dell'acciacco patito in settimana. Gli altri due posti sono già assegnati con dicecco e bucolo verso la conferma. Andando al pacchetto arretrato non dovrebbero esserci novità, con Pisseri che pare possa stringere i denti, Nava e Giorgiovic sulle fasce e Bergamelli e Drausi al centro. In attacco invece l'unico sicuro di giocare è Di Grazia, che dopo la tripletta rifilata al Messina può diventare il vero trascinatore del reparto avanzato malgrado la giovane età. Rigoli poi conserverà fino all'ultimo il dubbio legato all'impiego di Paolucci e Kalil, anche se probabilmente solo uno dei due scenderà in campo dall'inizio, mentre Russotto potrebbe prendere l'altra maglia titolare disponibile.